Se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like. Allora, è ovvio che poi la nostra concentrazione debba andare a campo a quello che accadrà questa sera nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio e Bianconeri che dovrebbero scendere in campo con Perin, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kossic leggermente in vantaggio su Ealing in attacco Vlaovic-Chiesa. Credo esista solamente un balottaggio sull'out sinistro appunto tra Kossic e Ealing però si torna al 3-5-2, non potrebbe essere altrimenti considerando come l'eufemismo non abbia funzionato l'esperimento proposto da Allegri contro la Lazio ma a Roma in campionato in occasione dell'1-0 firmato lo scadere da Marusic. Della partita, dell'esito, ne parleremo più tardi direttamente dallo Stadium ora dobbiamo affrontare un argomento molto importante, una notizia di giornata che già avevamo lì ne avevamo già iniziato a parlare anche su Discord con l'amico Antonio Corsa avevamo avuto dei segnali sul fatto che ci fossero dei movimenti attorno a Giovanni Manna che si appresta al termine della stagione a lasciare la Juventus con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto perché come ben sapete Manna quando è stato promosso come DS della prima squadra in occasione della scorsa estate l'è stato anche rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2025 ma Manna lascerà la Juve per diventare responsabile dell'Aresport del Napoli l'accordo mi dicono fonti accreditate ormai dettagli c'è il sì di Manna al Napoli c'è sostanzialmente un'intesa verbale che andrà poi definita quando si potrà firmare e quando dunque Manna potrà andare fisicamente a Napoli per iniziare questa nuova avventura professionale questa notizia non importante, importantissima perché ci fa capire e qua veniamo a un punto sul quale sto battendo la settimana in ogni mio intervento di vitale importanza cioè l'Aresport deve diventare di stampo giuntogliano cosa significa che Cristiano Giuntoli ora dopo un anno di ambientamento dopo un anno di valutazioni deve portare i suoi uomini deve fare in modo che ci siano quelle 3-4 figure di cui lui si possa fidare ciecamente che abbiano lavorato con lui in passato tra Napoli, Carpe eccetera eccetera e che conoscano il suo modus operandi questo è fondamentale perché Giuntoli quando arriva la Juventus arriva con un mercato già fatto da Manna ricorderete l'acquisto di Milik che rinnovo di Rabiot l'acquisto di UEA e la cessione di Kurusevski insomma Giuntoli quando arriva la Juve lo fa praticamente fuori tempo massimo per programmare questa stagione sebbene poi non ci fosse la possibilità di fare mercato insomma tutti i problemi che abbiamo ben conosciuto ma come vi ho raccontato a più riprese la Juve sceglie di portare subito Giuntoli a Torino per la quotidianità per la sua presenza per cercare di tenere unito il gruppo squadra e fare da collante tra club e lo stesso gruppo squadra ora però la visione è differente perché sappiamo che la Juventus per esempio la prossima stagione sarà impegnata in occasione mondiale per club e deve arrivarci pronto si spera di essere in Champions e deve arrivarci pronto si spera che si possa essere molto più competitivi in Italia e deve essere pronto si spera passando dalla Coppa Italia di arrivare eventualmente in Supercoppa Italiana la Final Four deve essere pronto quindi a differenza di un anno fa ora la Juventus ha delle prospettive più solide sebbene in questa fase si stia impanicando e non poco si stia rovinando il cammino qualificazione Champions ma Giuntoli evidentemente durante questa stagione avrà avuto sicuramente avuto la possibilità di capire di chi circondarsi quindi a me non sorprende minimamente che Manna lasci la Juventus innanzitutto perché Manna è ambizioso e se tu vuoi fare il DS il responsabile dell'area sport alla Juve non lo puoi fare c'è Cristiano Giuntoli che ha ancora altri 4 anni in contratto quindi per quanto tu possa far bene tu possa essere bravo motivato affamato volenteroso volitivo pimpante c'è comunque Cristiano Giuntoli capo e tu non sarai mai il capo della Juve quando c'è Cristiano Giuntoli quindi Manna secondo me coglie la palla al balzo per fare questo salto che è lo stesso che ha fatto Matteo Tognozzi che a un certo punto non vuole più fare il numero 3 alla Juve e ha scelto di diventare il responsabile dell'area sport del Granada e alla fine della fiera tutto torna perché né Tognozzi né Manna erano uomini di Giuntoli sebbene poi Giuntoli mi risulta che stimi molto Manna e molto anche lo stesso Tognozzi però sei figlio di altre scelte di altri percorsi di altri dirigenti apicali e ora tirata anche questa linea su Manna per decisione di Manna che evidentemente lo capisco si è fatto intrigare dalla possibilità di andare al Napoli di fare un salto in termini di ruolo poi sulla convivenza con Aurelio De Laurenti se vedremo cosa succederà perché mi sembra che non sia semplice però evidentemente Manna alle spalle larghe il giusto per testarsi in questa in questa avventura e ora cosa succederà io credo che almeno tre figure almeno tre figure debbano arrivare almeno tre figure penso a Pompilio che credo che sia pressoché scontato che andrà a fare il braccio destro di Cristiano Giunto di con il quale ha lavorato a Napoli ha lavorato a Carpi una sua creatura e che va in scadenza a Napoli in questa stagione ecco curiosità no Manna lascia la Juve per andare a Napoli Pompilio lascia il Napoli molto probabilmente per andare alla Juve Pompilio è una figura di campo una figura un avvocato persona fidatissima confidente di Cristiano Giuntoli e quindi secondo me ha già l'ufficio pronto alla Continas poi mi aspetto che magari possa arrivare Stefanelli ora al Pisa magari per rimpolpare l'area sport o per dedicarsi alla Next Gen qualora si decide se non andare avanti con Claudio Chiellini che però anche lui è molto stimato da Cristiano Giuntoli ma quando hai il contratto in scadenza devi anche decidere tu in prima persona cosa fare e poi credo che alla Juventus manchi anche un capo scout potrebbe essere Scala se non erro ora al Genoa anche lui persona che ha lavorato in passato con Cristiano Giuntoli quindi questi tre nomi diciamo due su due secondo me la Juve è molto probabile che li porti a casa Pompiglio Stefanelli e poi una figura con le caratteristiche di Scala nomi che dicono poco ai tifosi e lo capisco perfettamente ma dicono poco anche ai detti lavori perché poi queste persone devi conoscere sono uomini ombra e sono quelli che fanno andare avanti delle società ma è di vitale importanza che tutto diventi di stampo giuntoliano perché ci vuole una squadra nella quale Giuntoli si possa identificare si possa vedere si possa anche fidare che non è roba di poco conto soprattutto in ambienti ministeriali come la Juventus e però conferme totali Giovanni Manna finita questa stagione andrà a fare il direttore sportivo del Napoli accordo verbale trovato le firme di rito quando si potranno effettuarle e niente scrivetemi cosa ne pensate qua sotto intanto iniziamo a scaldare i motori in questo primo round di Coppa Italia con la Lazio partita complicatissima e però la Juve è un mondo in evoluzione un mondo in evoluzione che evolverà a mio modo di vedere anche per quanto riguarda l'area tecnica ma inteso allenatore è un mondo in evoluzione che è un mondo in evoluzione